Andiamo dritti al punto. Vivere senza paura è impossibile, ma quello che possiamo capire è capirla per imparare a gestirla. In primo luogo è importante focalizzarci e comprendere bene che la paura è un'emozione ed è quella che ci ha permesso di evolverci e di arrivare fino ad oggi ancora sani e salvi e non estinti. Il problema qual è? È che il 95% delle paure che noi abbiamo ad oggi sono infondate. Infatti le paure vengono causate per due motivi. Uno per delle esperienze che abbiamo avuto in passato, quindi magari dei traumi che ci portiamo avanti come può essere banalmente la paura dei piccioni o la paura dei ragni. Seconda tipologia di paura è la paura dell'ignoto, che è una paura completamente naturale che ci viene dal nostro cervello quando andiamo ad affrontare qualche novità. Perché devi capire una cosa, il nostro cervello odia le novità, ama la zona di comfort. Quindi appena noi inciampiamo, appena noi incontriamo una novità. Tra l'altro, piccola parentesi importante, ieri è uscito un video particolare su TikTok, discoteche, videogiochi che non ti fanno perdere tempo. Non te lo aspettavi? Vai a recuperartelo, mi raccomando. Come il cervello preserva la nostra persona, facendoci pensare a tutti i lati negativi di quella cosa, senza farci vedere il punto di vista positivo. Perché non vuole farci uscire dalla zona di comfort, non vuole assolutamente. Quindi incontri un'opportunità di business? Cosa penserai? Che è una truffa? Penserai che perché ha fallito lui do fallisco anch'io? Penserai a mille motivi per la quale non iniziare. Perché? Perché è una novità. Perché hai paura per l'appunto. Oppure, che ne so, incontri una ragazza, vuoi andare a parlare con la ragazza. Magari qua può essere arrivata anche dal passato. Quindi sei stato rifiutato in passato, ti sei bloccato sto trauma che dovrai essere rifiutato per sempre. E quindi hai paura di andare a interagire con quella ragazza. Perché? Perché ti mostra solo i lati negativi, senza mostrarti i lati positivi. Di andare a interagire con quella persona lì, andare a interagire con quella ragazza lì. E quindi il 95% comunque delle paure che abbiamo ad oggi sono delle paure senza senso che ci portiamo avanti da chissà quanto. Solo perché o c'è successo una volta una cosa e allora abbiamo classificato, etichettato quelle cose lì come certe. Oppure semplicemente proprio il nostro cervello che ci fa vedere solo il lato negativo della cosa. E come possiamo abbattere le paure? Come io tutt'oggi abbatto le mie paure? In primo luogo analizzando la paura stessa. Cioè se io ho paura di... Quando in passato... Ecco, prendiamo un esempio pratico. Io in passato avevo paura di togliermi la maglietta in spiaggia. Questo perché? Perché venivo preso in giro per il mio fisico. Quando sono dimagrito questa paura io me la sono portata avanti. Vado in spiaggia e mi rendo conto di aver paura di togliermi la maglietta in spiaggia. Anche se sono dimagrito. Quindi se io analizzo e capisco che quella paura lì arriva dal bullismo e che io tra virgolette ho anche risolto il problema del fisico. Capisco anche che è una completa idiozia non togliersi la maglietta. E quindi in quel momento decido di affrontarla. Perché ho capito da dove arriva. E in secondo luogo comprendo che i benefici di toglierla sono maggiori dei benefici di non toglierla. Che potenzialmente i benefici di non toglierla potrebbe essere solo uno. Preservare la presa in giro. Quindi la gente non mi dovrebbe prendere in giro. Quando in realtà se ci rendiamo conto in qualsiasi caso ci sarà sempre qualcuno che ci giudicherà per avere stra il bel fisico o stra un brutto fisico. Prendete sempre bello e brutto tra virgolette. Perché ciò che è bello per me può essere brutto per te. Ciò che è brutto per te può essere bello per me. Quindi come nel pratico comunque affrontiamo possono essere affrontate le paure. Io le affronto in due modi. Il primo è il metodo a cazzo duro. Capisco che è una paura completamente infondata. Capisco che non ha completamente senso. Anche se ho paura mi cimento al massimo ho fatto un'esperienza. Proprio il metodo a cazzo duro. Che diciamo che è il metodo che io consiglio per le paure più banalotte tra virgolette. Quindi come può essere la paura del fallimento. La paura del giudizio. La paura di quello o quell'altro. Quindi proprio affrontare la paura. Se invece poi abbiamo un trauma bello corposo dietro. E lì l'unico modo per affrontarla è l'esperienza graduale. Vi spiego meglio. Se io ho proprio un trauma con i ragni. Come faccio ad affrontare la paura dei ragni? Comincio magari a guardare su YouTube qualche video di ragno. Magari prima un ragno. Poi mi guardo un video con due ragni. Poi mi guardo un terzo video con tre ragni. Capito? Quindi mi espongo. Espongo il mio cervello ad affrontare in maniera più contenuta quella paura lì. Per poi magari andare a incontrare, vedere un ragno dal vivo. Per capire che quindi il ragno di per sé non ti fa niente. Come stessa cosa gli uccelli, i piccioni e tutto quello che ne consegue. E quindi è proprio un esporsi graduale alle paure. Però com'è che facciamo la scelta di voler superare quella paura? Capendo che i benefici sono maggiori dei malus. Se noi capiamo che i benefici sono maggiori dei malus, allora da lì prendiamo la scelta di affrontarla. Se noi non troviamo i benefici, non troveremo mai il senso di sacrificarci per superare quella paura lì. Tutto qui. Quindi in sintesi, è normale che hai paura, puoi affrontarla tranquillamente, puoi esporti o a cazzo duro oppure in maniera graduale. Però prima devi trovare i benefici. Perché se non trovi i benefici, non sarai pronto a sacrificarti, a fare lo sforzo necessario. Tutto qui. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Lascia un like, condividi e noi ci vediamo al prossimo video.